Il grande progetto Centro Storico Napoli, 100 milioni di fondi europei stanziati per monumenti, strade sotto servizi di una porzione di uno dei patrimoni unesco più belli al mondo, anche se ritardo, prende forma grazie soprattutto ai giovani studenti del Dipartimento di Architettura della Fidedico II di Napoli. Sara Russo, 21 anni, studentessa al terzo anno e una tra i 40 studenti che hanno preso parte alla redazione della progettazione di alcuni monumenti e luoghi di questo intervento. Nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, la presenza dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte, si è fatto il bilancio dell'iniziativa. L'UNESCO ha dato il parere favorevole, mentre di queste settimane lo sblocco dei fondi europei che dovrebbe dare un'accelerata alla pubblicazione dei bandi. Dovrebbero essere pubblicate una serie di gara e dovrebbero entrare nel vivo i lavori per altri interventi. Voi avete progettato un monumento simbolo di Napoli, via Duomo con la cattedrale. Che cosa prevederete? Prevederemo appunto di aumentare l'accessibilità e quindi la pedonalizzazione sia per il turismo sia per il carattere commerciale che Via Duomo presenta. Aumentando il marciapiede e quindi aumentando la friabilità ma facendo anche un discorso di accessibilità per le persone con disabilità o ipovedenti. e quindi prevedendo sedute, la sostituzione dell'illuminazione, la ripavimentazione della nuova area di marciapiede. La riduzione della sezione stradale a 5,50 metri a favore appunto di una maggiore friabilità pedonale. Quando vi hanno detto che avessero dovuto progettare la nuova via Duomo ci avete creduto? Inizialmente sembrava comunque un qualcosa di abbastanza distante però noi comunque essendo radicate sul territorio e conoscendo quelle strade siamo stati ben felici di fare questo progetto perché comunque siamo a conoscenza di quelli che sono i punti forti ma anche i punti deboli della città e quindi è stato un piacere riuscire a migliorare la città che amiamo e nel quale viviamo. Tu sei sicura che quando sarai laureata poi questo progetto sarà realizzato? Io spero di sì, le possibilità sembrano che ci siano e che siano buone.